Peppa, tesoro, è arrivata la tua amica? Sì, evviva! È arrivata Rebecca! Ciao, Peppa! Oh, ciao, Rebecca! Che bello vederti! Addio a un nuovo gioco! Che cosa? Che cosa? Vieni, seguimi! Oh, come sono curiosa! E non sporcate troppo, Peppa, mi raccomando! Sì, mamma! Wow! Il leccal ecco col pongo! Ci sono un sacco di cose da fare! Ci divertiremo un sacco! Io voglio fare quella forma di cuore! Puoi fare tutti quelli che vuoi, Rebecca! Yuppie! Ci sono un sacco di colori! Wow! Uno stampino a forma di stella e di cana da zucchero! Oh, questi sono troppo buffi! A forma di piede e di cuore! Questi invece sono i miei preferiti! A forma di lampone e di infraditto! E non potevano manca gli accessori! E soprattutto gli stecchini per fare le calecca! Ora possiamo iniziare, Peppa? Sì, Rebecca! Vai, scegli pure il primo che vuoi fare! Deciso! Voglio fare il cuore! E lo faccio rosa! Ok, sono pronta! Allora, prendo un pezzo! E lo vado a mettere proprio qui! E poi devo mettere lo stecchino! E adesso cosa devo fare, Peppa? Adesso prendi il rullo e poi ci dai una passata sopra! Anzi, guarda, te lo do io! Tieni! Eccolo qua! Grazie, Peppa! Ma di niente, Rebecca! Ok, allora... Ok, sono pronta! Ok, ho terminato! Togliamo quello che è in più! Di qua e di là! Ok, è pronto! Pronta, Peppa? Tiro su, eh! Wow! È bellissimo! Esattamente come pensavo che sarebbe venuto! Guarda un po' che le calecca, Peppa! Ti piace? Sono stata brava! Sei stata bravissima! Oh, ti metto qua! Ecco qua il primo! Staccate, Peppa! Oh, finalmente non vedevo l'ora di fare il lampone! Uh, lo farò di due colori! Verde e rosa! Hmm... Eccoci qua! Anzi, ho cambiato con il viola! Prendiamo un po' di viola... E un po' di verde! Ok, poi prendiamo lo stecchino... E ora con il rullo andiamo a tendere l'impatto! Ecco fatto! Oh, speriamo sia venuto bene! Ok, lo tiro su! Eccolo qua! Ta-da! Che bello! Mi viene voglia di mangiarlo! Oh, sono stata bravissima! Hai visto, Rebecca? Ti piace? Ma sei stata bravissima, Peppa! Lo metto qui vicino al tuo! Ecco fatto! Tocca di nuovo a te! No, Peppa, aspetta un'idea! Facciamo questo insieme? Facciamo la stella? Ah, sì, hai avuto un'attima idea! Facciamo la stella! Di che colore? La facciamo tutta gialla con i glitter? Ah, sì! Buona idea! Eccoci qua! Sarà bellissima la nostra stella! Ok, Peppa! Mettiamoci al lavoro! Ora non mi resta che stenderlo un po'! Perfetto! Ora tocca a me! Ora mettiamo lo stecchino proprio qui e non ci resta che chiudere lo stampo! Ecco fatto! Spingiamo! Ecco fatto! Allora, Peppa, apriamolo! Uno, due... Tadà! Che bello! Dai, tiriamolo fuori, Peppa! Eccolo! È bellissimo! È tutto glitterato! È proprio come una vera stella! È stupendo! Beh, direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro! Oh, ci puoi scommettere! Guarda qua che lecca-lecca! Sono bellissimi! Dai, Peppa! Andiamo a fargli vedere a Mamma Pig! Sì! Andiamo a fargli vedere a Mamma! Mmm..! Ciao! 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 Grazie a tutti.